Lei ha alle mie spalle nuova Tesla Model S Plaid, un'auto che non necessita di particolari presentazioni beh, forse lo sapete già, oltre 1000 cavalli di potenza massima, una dinamica di guida incredibile delle prestazioni formidabili, praticamente non esiste su strada un'auto che possa letteralmente paragonarsi a lei per quanto riguarda proprio dati assoluti in termini di prestazioni non ci credete? Beh, ve la vado a raccontare oggi in questo video in pillole Non ha subito particolari aggiornamenti al punto di vista estetico, sicuramente è diversa rispetto alla prima generazione di Tesla Model S è stato riottimizzato tutto il paraurti anteriore, tutto il frontale per riuscire ora a fendere ancora meglio l'aria infatti il CX aerodinamico è uno dei migliori in commercio, solamente 0,20 CX e questo le permette di essere particolarmente efficiente dal punto di vista appunto della penetrazione aerodinamica quindi aumentare anche l'autonomia Sono poi disponibili gruppi ottici full led con fascio abbagliante automatico che consentono di avere massima illuminazione possibile sulle strade a seconda poi delle condizioni in cui ci troviamo a viaggiare Nuovo anche il design dei nuovi cerchi in lega, in questo caso da bene 21 pollici con tanto di pinza monoblocco color rosso a contrasto che ci fa subito capire la sportività di questo modello Tesla però non si è solamente limitata a creare una versione super potente di Model S perché è stata completamente ottimizzata la meccanica dell'auto troviamo ora una batteria sempre da 100 kWh la cui però composizione è pensata per andare a massimizzare i cicli di carico e scarico in sostanza riesce a scaricare molto più energia verso le ruote e al tempo stesso l'energia di ingresso le consente di ricaricarsi molto più velocemente tramite Supercharger V3 di ultima generazione pensate che può arrivare fino a un picco di ricarica massimo di bene 250 kW questo vuol dire in sostanza che potrete ricaricare circa 300 km di autonomia in soli 15 minuti mentre invece la ricarica dal 20 all'80% può essere coperta in poco meno di 30 minuti ovviamente digitando il Supercharger dal navigatore di bordo lei preriscalderà la batteria così da arrivare poi alla sorgente di carica con la batteria nelle migliori condizioni possibili per accettare subito il massimo della potenza la potenza cresce anche grazie all'introduzione di tre motori di nuova generazione due al posteriore, uno all'anteriore possiamo andare a regolare la trazione e la coppia su entrambe le ruote posteriori in maniera estremamente più puntuale rispetto a come farebbe un più classico differenziale meccanico ma Model S poi vince e stravince anche dal punto di vista dello spazio a bordo guardate quanto margine c'è, ho lasciato apposta questa borsa all'interno per farvi capire poi quanto spazio c'è ancora per caricare altri oggetti quasi 800 litri di spazio utile con tantissimi vani protoggetti anche qua sotto guardate quanto è profondo questo box qua sotto in cui posso andare tranquillamente a nascondere i cavi di ricarica e se vi serve poi ancora più spazio, beh, basterà abbattere la seconda fila di sedili e rimuovere la cappelliera e guardate che vera e propria piazza d'armi non può poi mancare il Frank qua davanti, altri 60 litri tranquillamente sfruttabili per nascondere i cavi o inserirci un altro zaino o altre bolse flessibili ma a te te la sorprende poi soprattutto qua dall'interno guardate qua il nuovo volante chiamato Yoke sostanzialmente il volante classico ma tagliato nella zona superficiale un qualcosa sicuramente di scenografico che ci permette di avere molta più visibilità nello spazio qua superiore possiamo andare a visualizzare molto più facilmente tutta la strumentazione digitale qua davanti tuttavia poi nell'utilizzo quotidiano soprattutto con svolte strette, rotonde, cura 90 gradi devo dire che non ho particolarmente apprezzato questa soluzione in più devo dire che secondo me va anche a sminuire quello che può essere l'incredibile piacere di guida che quest'auto può assicurare qua davanti a noi poi troviamo sempre l'incredibile display da ben 17 pollici di diametro praticamente più grande di quello di molti laptop e computer portatili presenti in commercio e sfrutta il costantemente aggiornato sistema nativo di Tesla che praticamente controlla tutto dall'interno di questo menu che troviamo qua a sinistra peccato che vedete qua con la vista del volante andiamo a oscurare praticamente questa porzione di schermo una piccolezza che in realtà non è più di tanto vincolante ho apprezzato sempre tanto la fluidità di utilizzo di questo sistema che integra praticamente tutto il cervello dell'auto al suo interno possiamo letteralmente andare a controllare qualsiasi cosa e ciò che apprezzo è che negli anni è stato sempre ulteriormente migliorato ad esempio quando andiamo a regolare le tre modalità di guida la pesantezza del volante possiamo andare a attivare la modalità drag strip che è quella che poi va a massimizzare la potenza erogata dal powertrain ma attraverso la modalità track possiamo andare anche a personalizzare la ripartizione della coppia attraverso i tre motori due posteriori, uno anteriore possiamo andare a scegliere di far diventare quest'auto fondamentalmente un'auto trazione posteriore o un'auto trazione anteriore per andare a risparmiare qualche kilowatt in ambito proprio trazione e derogazione della potenza ma possiamo andare anche a regolare quella che è l'altezza dal suolo della vettura attraverso questi quattro livelli molto utile perché si tratta di un'auto molto molto vicino al suolo quindi attenzione quando andrete a parcheggiarla ed eccoci quindi al volante di una delle auto più pazze di sempre pazze ovviamente in senso positivo perché vi sfido a rimanere indifferenti di fronte ad un'auto che riesce a mettere a terra mille cavalli e passa e oltre 1400 newton per metro di coppia ciò che mi sorprende sempre in primis delle vetture elettriche ma poi ancora di più di questo modello è come si riesca praticamente ad annullare il peso chiaramente importante di queste auto dovuto principalmente alle grandi batterie si parla ovviamente di 100 kWh di batteria la vettura pesa in ordine di marcia oltre 2140 kg ma mettendo la modalità plaid mettendo le sospensioni e la configurazione più sportiva sembra di avere a che fare con un'auto decisamente più piccola più maneggevole e soprattutto più leggera l'immediata coppia dei propulsori elettrici annulla tutte quelle che possono essere le forze le masse in gioco e in pochissimi secondi verrete letteralmente proiettate nell'iperspazio è un'auto chiaramente impegnativa da gestire perché quando toccate i 100 km in soli 2,1 secondi ma ancora più preoccupante il valore di 6,1 secondi per toccare i 200 km da fermo ecco che si tratta di una vettura davvero da usare con i guanti nonostante possa tranquillamente trattarsi di un'auto da utilizzare tutti i giorni certo abbiamo un assetto che ha tendenze allo sportivo con un assetto che ha una certa resistenza quando si va ad affrontare qualche buca più secca però comunque viene facilmente mangiato dalle sospensioni che possono essere appunto regolabili sono pneumatiche quindi potremmo andare anche a regolare l'altezza della vettura dal suolo tutto questo la rende un'auto letteralmente perfetta si sposa benissimo con qualsiasi contesto e arriviamo infine ai consumi perché nonostante una massa così importante una potenza così impegnativa dalle dimensioni davvero generose ecco che poi Tesla raggiunge letteralmente il miracolo perché in ambito urbano quindi muovendosi tra i semafori tra le rotonde in contesto diciamo da tutti i giorni i consumi possono spaziare dai 16 ai 19 kWh su 100 km e credetemi è un valore incredibile e se non ci credete guardate un po' i consumi rilevati questa è l'ultima distanza effettuata ovviamente in un contesto urbano si parla di 14,1 kWh su 100 km mentre su una distanza un po' più lunga sempre percorsa in ambito urbano abbiamo 17,8 kWh su 100 km su invece è un viaggio di circa 158 km quindi con un misto extraurbano e urbano il consumo medio si attesta a 24,2 kWh su 100 km e parliamo infine di listini nuova Tesla Model S in versione long range quindi con la stessa batteria e potenza leggermente ridotta a 670 CV quindi comunque stiamo parlando di una vettura estremamente potente parte da un prezzo base di circa 95.000 euro mentre invece la Model S Plaid che abbiamo provato noi oggi parte da un prezzo base di poco inferiore a 110.000 euro da me e da Tesla Model S è tutto io continuo a raccontarvela sulle pagine del giornale.it e vi do appuntamento alla prossima prova ciao ciao